Vero, il tuo miglior stare a casa. Tutti i giorni alle 10.30, Casalotto Vero Amore. Che veglio con telenovelas, notizie, attualità. Buonasera, benvenuti a Casalotto Vero Amore, speciale della domenica sera e oggi specialissima perché è una puntata che noi dedichiamo ancora a tutte le mamme, quindi auguri, auguri e un bacio grande a tutte le mamme d'Italia e oltre. E adesso salutiamo, avete già visto chi c'è con me in studio, c'è il nostro Giovanni, il nostro autore, ciao. Cara Clarita, buona domenica e buona serata anche a te e buona festa a tutte, naturalmente, come hai detto tu giustamente, le mamme del mondo. E adesso sì, c'è il video di questa donna, diciamo, svegliamo subito il nome, è Grecia Colmenares, credo che tra le più famose, importanti, seguite al mondo. E' un video che ripercorre tutta la carriera, è impossibile, in pochi minuti perché dovremmo fare uno speciale tipo di, non so, un anno. Ha fatto veramente tante e tante novella, sai. E questo lo dedichiamo proprio a tutte le mamme, è un video che potete trovare anche su Facebook e ringraziamo a Giovanni Ruggero perché è stato ideato proprio dal fan club di Napoli, di Grecia Colmenares. Quindi una chicca esclusiva per i nostri amici, per voi che siete a casa, dai nostri amici napoletani, in particolare dal nostro Giovanni, bravo, grazie caro Giovanni. Allora a questo punto ce la guardiamo? Dai, dai, guardiamo il video. Grecia Colmenares. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Oh che bello, mamma mia. Che musica epica, che senso di filmone quasi, vedere questa carriera tutta concentrata, poi in poche battute, ma ricchissima come dicevi tu. Infatti, infatti, veramente grazie. Quindi un saluto ancora a Grecia Colmenares e grazie ancora al fan club di Napoli, di Grecia. E adesso ecco, tocca a te caro Giorgio.